Radici, come già dal titolo, immaginiamo di partire da una critica a quella che è l'attuale modello socio-economico. Da qui vogliamo immaginare di lanciare un segnale che è anche possibile, come dire, uno stile di vita, un modello di vita, non dico alternativo, ma sicuramente migliore rispetto a quello di Erno. Abbiamo immaginato di farlo con i bambini, con le scuole, con le istituzioni, gli enti, i preposti, che appunto lavorano per la salvocardia e la cura del territorio. Quindi diciamo che stamattina si inizia con il mangiare sano, il cibarsi in modo corretto e sano. Questo lo facciamo stamattina appunto con Slow Food, domani proseguiremo invece sul tema dell'ambiente insieme all'Egambiente, dove sempre le scuole, gli alunni del nostro istituto saranno impegnati nella pulizia di un luogo e dello spazio scenico, l'Anfiteatro Luisa Conte.